Ciao, bentornato sul canale di Stats4Bets. Nel video di oggi andiamo a studiare la decima giornata di campionato di Serie A. Abbiamo finito ieri con il big match Inter-Juventus, tra l'altro abbiamo preso il risultato esatto e anche il risultato esatto di Barcellona-Real Madrid. Quindi i video sui big match sono andati abbastanza bene, mentre ho sbagliato purtroppo l'esito goal di Marsiglia-PSG. In realtà avrei preso quell'esito già al ventesimo del primo tempo se il VAR non fosse intervenuto per ben due volte annullando prima un goal al PSG e poi un goal al Marsiglia. Però, vabbè, ci possiamo anche stare. Ci vediamo la sigla e poi entriamo direttamente all'interno del superfoglio per vederci la decima giornata. Sigla. Mi raccomando, seguitemi sui introduzione. Benissimo, eccoci di nuovo. Allora, nel frattempo, non so se avete sentito la voce in sottofondo, stavo girando da quest'altra parte, da quest'altra telecamera, un video per il canale TikTok. Sto cercando di crescere un po' anche su TikTok per trovare un nuovo canale dove magari parlare di betting. Non mi sembra TikTok ancora che sia esattamente il canale giusto, però ci sto provando. Quindi se avete curiosità di vedere quello che succede su TikTok, che non è, diciamo così, preciso come quello che cerco di fare su YouTube, potete cercare Stats4Bets anche su TikTok. Allora, detto questo, ci andiamo a prendere la serie A. Come detto, ieri abbiamo chiuso con i due big match serali. Nella giornata di oggi non c'è un match particolarmente interessante, non c'è un vero e proprio big match. Ci sono partite sicuramente interessanti, quello sì, come può essere Milan-Torino, in parte anche Sampdoria-Atalanta, perché comunque l'Atalanta non è esattamente l'Atalanta degli anni scorsi. Anche Lazio-Fiorentina ha il suo perché, però, diciamo, vedendo queste partite non c'è effettivamente un big match. Dici, cavolo, proprio la partita migliore da voler seguire. Perciò ho pensato di dividere il video in due, semplicemente. Facciamo le prime cinque partite, anzi, facciamo le prime sei fino alle 18.30 di mercoledì in questo video. Poi magari domani faccio uscire un altro video con le altre quattro partite. Questo perché cerchiamo il più possibile, per quanto possibile, di avvicinarci all'inizio dei match per vedere come si evolvono le quote, per vedere come si muove un po' il mercato. Cominciamo a Spezia-Genoa. Derby che lo Spezia ha perso contro la Sampdoria. Ci si ritrova subito, nuovamente, ad affrontarlo con il Genoa. Ma in questo momento le quote sono molto alte e favoriscono leggermente lo Spezia. Però lo favoriscono con un'indicazione di rischia 1x. Quindi non esattamente l'indicazione migliore per puntare sullo Spezia. Se andiamo a vedere la classifica, sono messe abbastanza male tutte e due. Quindi vengono anche entrambe da due sconfitte sicuramente pesanti. Mi aspetto una partita un po' bloccata. Allora, è vero che c'è la metrica della forbice. Ok, siamo d'accordo. Quindi la metrica della forbice solitamente ci porta quantomeno a due gol. Infatti lui ci suggerirebbe anche già da subito un over 1,5. La quota dell'over è in calo. Quella del gol pure. Però, secondo me, invece è una partita... Le difese sono pessime da parte di entrambe. Però è una partita che ha già quella carica emotiva. Considerando uno che è un derby, ma due che stanno messe male in classifica. Che, come ho detto spesso, le statistiche possono essere un po' ribaltate. Quindi questo 60% di esito-goal, che mi sta benissimo dal punto di vista prettamente numerico, dal fatto che la quota è in calo e tutto, però, secondo me, si va a scontrare un po' con l'emotività della gara. Quindi, io andrei a vedermi, invece, una probabilità sui cartellini. E ieri, nel gruppo Fightbet, quindi nel mio gruppo privato, ho dato su Inter e Juve, per esempio, un over sui cartellini, perché me la immaginavo partita, insomma, un pochino dura, mettiamola così. E, in effetti, al di là della 1x con l'over 1,5 che avevo immaginato per l'Inter, in realtà anche quello sui cartellini era andato bene, come pronostico. Qui mi sento di fare un pochino la stessa cosa, rischiando anche questo 4,5, perché comunque ha la statistica più bassa, anche se di poco, però io mi immagino veramente un match con il coltello tra i denti, quindi ci metterei un cartellino over 4,5, che, insomma, ci si possa arrivare a 5 cartellini. La partita successiva è poi questa del Venezia contro la Salernitana. La Salernitana ha preso, intanto controllo di qua, quello che succede. È una scoppola clamorosa, perché ormai praticamente lo studio di Stats4Bets sta diventando una sorta di studio stile Sky, no? Quindi ho schermi dappertutto, dispositivi dappertutto, di qua c'è TikTok, di qua c'è Instagram, squillate qua, squillate là. Mio papà che mi chiama sempre mentre faccio i video, quindi oggi, per adesso, ancora non chiama, ma vi terrò ovviamente informati. Appena vedo che chiama, vi faccio vedere la chiamata, perché sennò uno pensa che lo faccio apposta, che non è vero, che lo dico apposta, oppure magari che mi metto d'accordo con mio papà e gli dico, oh, chiama me a quest'ora che faccio il video. Invece no, vi assicuro che c'è proprio una sorta di radar, di evidentemente telecamera nascosta, che appena mi veda, che comincia a registrare, mi chiama lui, oppure, l'avrete visto sicuramente negli altri video, il postino. Cioè, o mio papà o il postino. Non c'è, non si scappa. Non è che dici mai, ti chiama, che ne so, Belen. Dico, vabbè, ho chiamato Belen, interrompo il video. No, o mio papà o il postino. Tolto questo. La Serenitana ha preso una scoppola clamorosa. Quindi, secondo me, si va un po' verso il Venezia. Venezia che ha perso col Sassuolo, seppur era passato in vantaggio. La Serenitana ha perso con l'Empoli, però, insomma, stava 4-0 a fine primo tempo. Tra le due, se devo spendere un euro per la salvezza, andrei più sul Venezia che non sulla Serenitana. Ecco, quindi la metterei sulla 1X. Nonostante Ribery, insomma, è un giocatore che magari a Venezia non c'hanno di quella qualità. E si sono infortunati alcuni giocatori interessanti del Venezia. Sia Aramo che Bisio. O Bisi, come si chiamano, non lo so. Quindi, va fatta attenzione. Però io la sposterei sul Venezia. Il Milan contro il Torino. Qui c'è una cosa interessante di cui uscirà anche un articolo tra poco, appena riesco a finirlo. Ho cominciato a scriverlo, poi il turno infrasettimanale mi comprime sempre il lavoro perché ovviamente devi fare video, devi fare pronostici, devi fare gli articoli. Insomma, è tutto un po' di fretta. Però c'è una cosa interessante, secondo me, che ci aiuterà a valutare questo genere di situazioni qui. E qui c'è un rialzo. Cioè, dalla quota reale allibrata lui a 1,45 me la dava bene. Da 1,45 me la alza a 1,57. È un rialzo non ancora eccessivo perché è del 5%. Però se aumenta troppo, cioè se arriva intorno all'8-10, ci starei attento. Il Milan sicuramente in questo momento di stagione sta facendo vedere grandi cose. Però facciamo anche attenzione a tutti questi bookmaker che stanno tutti facendo crescere la quota del Milan. Ha vinto a Bologna, ha vinto una partita che poteva essere complicata, invece l'ha vinta bene. Però c'è questo toro che si ha perso le due partite con il Napoli e con la Juve, però incarna effettivamente lo spirito Iuric. A me piace tantissimo questo Torino. Quindi secondo me è un match per il Milan complicato, complicato anche nell'ottica in cui comunque campionato così, anzi calendario così stretto, così compressato in questo momento è sicuramente meglio per una piccola o semi-piccola che non ha le coppe rispetto ad una che deve giocare anche le coppe perché comunque il Milan ha giocato anche in Coppa. Quindi aspettiamoci in questo turno di Serie A una, due sorprese perché appunto, secondo me, influenzerà il fatto che il calendario è così compresso. Nell'ottica della sorpresa potremmo rischiare una X a primo tempo. Poi, per carità, io continuerei ad andare sul Milan perché in questo momento ce l'ha nelle corde però non lo userei a quella quota 1,57 che ci potrebbe sembrare ottima anzi lo sarebbe per la singola. Non lo userei in singola perché in tutto questo ragionamento possibili sorprese Spirito Iuric, Spirito Toro, Ottimo Toro, Milan che sta vincendo una dietro l'altra ci potrebbe stare una piccola sorpresina. Sorpresina che invece non mi aspetto nella maniera più assoluta da questa Juventus quindi gli dedico anche poco tempo però la Juve è ripartita il Sassuolo solitamente soprannominato addirittura anzi scansuolo nel senso che con la Juve dopo dieci minuti stava sempre sotto i 2-0 insomma un po' così in maniera anche poco carina verso il Sassuolo che è un'ottima squadra però lo scansuolo qui a Roma si usa spesso dirlo non credo che sia una squadra che possa in questo momento impensierire a Juventus dopo che faticando arrabbattando è comunque andata a fermare anche l'Inter perciò esito 1 ci sta esito che resta incerto invece è questo con l'Atalanta perché l'Atalanta quest'anno anche se al 93 quindi diciamo in un momento che uno a partita pensa di averla portata a casa non c'ha l'istinto killer che ci ha avuto in questi anni quindi una partita come quella con l'Udinese magari l'anno scorso l'aveva chiusa 3-0 qui la tiene aperta fino alla fine e alla fine pareggia la Sampdoria si è portata a casa l'importante derby contro lo Spezia quindi rilanciandosi un attimino perché altrimenti se andiamo a vedere veniva da un periodo abbastanza buio abbastanza problematico mi fa pensare la possibilità magari di un esito gol adesso vediamo le quote che ci dicono però ce lo appoggiano 1,53 piccolissimo rialzo da 1,50 statistica piuttosto alta 62% perché comunque entrambe adesso lo vedremo hanno difese abbastanza permissive la Sampdoria molto di più però insomma pure l'Atalanta che solitamente era un pochino più cioè in difesa non è che era più forte è che era in attacco che era più killer quindi qua magari c'era 4 gol di media fatti quindi pure se ne subiva uno non succedeva mai quasi niente invece quest'anno un po' un po' di punti li sta perdendo e quindi l'esito gol ci si potrebbe anche rischiare eventualmente se ovviamente si vuole cercare una soluzione più più comoda più tranquilla c'è l'over 1,5 al 79% credo che non ci siano che non ci siano problemi magari potrebbe essere una X2 over 1,5 mi fa pensare la possibilità comunque dell'esito gol è anche il fatto che c'è la metrica della formula 4 formula 4 ricordo i due esiti principali sono l'over 1,5 quindi il fatto che ci sia con la formula 4 ce ne dà ulteriore conferma oppure il gol della squadra sfavorita leggendo questa piccola difficoltà dell'Atalanta di questo momento secondo me ci si potrebbe mettere l'esito gol poi ovviamente oggi è lunedì la partita si gioca mercoledì alle 18.30 potrebbe ancora variare molto e cambiare qualcosa in tavola però per quello che abbiamo visto ci può stare Udinese Verona è un match interessante anche perché il Verona in maniera abbastanza clamorosa però l'ho detto più volte da quando è andato via Di Francesco è diventato tipo il Real Madrid cioè squadra ottima calcio anche piacevole e leggevo anzi sentivo più che altro durante la partita con la Lazio che il Verona ha il miglior attacco del primo tempo quindi segna tantissimo nei primi tempi l'Udinese di contro la troviamo con una difesa diciamo discreta discreta per il posto in classifica che occupa se andiamo a vedere saranno adesso io la classifica non me la ricordo la vediamo subito però presumo che stanno più o meno a pari punti ecco infatti più o meno a pari punti però l'Udinese subisce molto meno rispetto al Verona l'Udinese subisce 1,44 il Verona subisce 2 quindi è un po' un'antitesi tra ottimo attacco del Verona e ottima difesa o quantomeno buona difesa dell'Udinese ottima dell'Udinese comunque prende un gol e 44 un gol e 60 quindi non la possiamo definire ottima però buona mentre il Verona possiamo effettivamente definirlo un ottimo attacco perché a 2,33 è una buona media questo ci complica tantissimo la visione del match perché non si sa dove andare a pararla tra l'altro c'è anche l'allibramento viola piuttosto il rialzo quindi è veramente complicata come lettura che ci inventiamo su questa statistiche che non ci danno particolari indicazioni neanche qui equilibratissimo secondo me questa potrebbe finire over 1,5 o under 3,5 potrebbe finire in entrambi i modi e anche il bookmaker si tiene abbastanza equilibrato rischiamoci questo over 1,5 lo metto con la bionbetta un rischio perché effettivamente non abbiamo un'indicazione chiara su questa questione per questo video direi che è tutto perché abbiamo visto fino a mercoledì alle 18.30 andarci oltre quindi mercoledì alle 20.45 significa praticamente andare quasi a due giorni avanti e diventerebbe troppo il Napoli sarebbero addirittura tre giorni avanti quindi diventerebbe veramente troppissimo e domani mattina quindi martedì farò un nuovo video anzi magari anche nel pomeriggio vediamo per per tutte queste altre partite così cerchiamo di avvicinarci un po' di più per questo video è tutto come sempre se ti è piaciuto lascia un like ci vediamo nel prossimo video